Andiamo! Rimaniamo a guardarla per qualche minuto. Magari qualcosa succederà. Temevo che mi avresti dato questa risposta. Eccolo là! Lo vedo! Guardate qua! Si riempie di acqua e diventa pesante. In questo modo va giù che è una meraviglia! Il problema è che poi non torna più su. Ciao, amici! Che bello che siete... Benissimo! Ora che ci siamo tutti possiamo dare inizio al carnevale di Pontipandi!